Registrati nella giornata di ieri nuovi contagi da coronavirus nel Cilento, precisamente a Ceraso, dove ora salgono a quattro i casi di covid, i tre contagi riscontrati ieri nel paese cilentano sono legati ad un rientro dall'estero di un giovane che è risultato positivo negli scorsi giorni al test del tampone che viene svolto da prassi in questi casi. A Capaccio Pestum e a Castelnuovo Cilento registrati recentemente nuovi contagi. Nella città dei Templi il numero dei positivi è salito a quattro, con la positività di due giovani rientrati dalle vacanze in Sardegna e di uno dei loro contatti stretti. Precedentemente era risultato positivo al covid un cittadino proveniente dall'estero. Per Castelnuovo invece, primo contagio in tutta l'emergenza coronavirus. Arrivano notizie positive da Oiastro Cilento, vista la negatività del cittadino 53enne al terzo tampone, il secondo effettuato per verificare il suo effettivo stato di contagio. A quanto pare si è trattato di un falso positivo, oggi sarà demesso dal covid hospital di Scafati. Tutti negativi i tamponi effettuati sui suoi contatti. Riguardo Pisciotta e pochi contagiati restanti, che avevano raggiunto il numero di 23 con una vittima, sono tutti in via di guarigione. Anche a Casalvelino tutti guariti. Restano un caso ad Agropoli, il primo riscontrato nel periodo estivo, così come a Centola, dove si tratta di un soggetto milanese in vacanza nel comune costiero occidentano.